buongiorno a tutti allora io sono dalla fermata dell'autobus e sto aspettando il 39 che arriva alle 2 15 in teoria e oggi vado a bocca d'asse insieme alla bic e adesso non ci sarà perché voleva guardare genoa a casa e lo capisco perché non tutti hanno voglia di fassi una bella passeggiata tanto noi c'è già stato a bocca d'asse quindi niente di che in pratica morale della favola io vado a bocca d'asse e niente da sotto aspettando il 39 al 40 che mi porta giù a brindole e ora poi preparerò da mangiare poi domani si torna in sport cop quindi domani giornata dura ma niente allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se volete unirvi alla sapermini e noi ci vediamo domani con un nuovissimo blog ciao